Ora che la seconda stagione di La Ruota del Tempo su Amazon Prime è arrivata a conclusione, sento la necessità di tirare le somme anche a fronte di un video, il primo che ho dedicato a questa seconda stagione, in cui ero stato abbastanza critico. Vi invito a rivederlo, ve lo metto qui sotto in descrizione. C'è qualcosa da dire su come la serie è continuata e si è conclusa, e potrei anche rivedere in parte la mia posizione precedente. Sigla! Ok, ho continuato a vedere La Ruota del Tempo, nonostante le prime tre puntate mi avessero lasciato abbastanza tiepido. Senza abbastanza, tiepido. Ma essendo una produzione fantasy di primo livello, ad alto budget, in cui comunque la nostra passione per questo genere si può riversare, e non essendoci molte alternative mi sono detto vabbè tu guardalo e vediamo che succede. Anche perché qualche elemento mi aveva lasciato piuttosto contento, appagato, no? C'erano delle parti, degli elementi, delle parti di questa ricetta, dai sapori, dai gusti contrastanti, che comunque mi erano piaciuti. E infatti, andando avanti, ho notato che dal quarto episodio in poi la storia iniziava a decollare, e l'ho notato con grande piacere. Cosa intendo dire? Che devo rivedere completamente la mia posizione? No, ma in parte sì. Vediamo perché. Dalla quarta puntata in poi ho notato che il blatterare sentimentale, sentimentalista anzi, si era diradato un bel po'. Cioè non avevamo più quei discorsi motivazionali e automotivazionali, in cui questi giovani protagonisti cercano la loro dimensione esistenziale e romantica, e cercano di evolversi in quanto creature di questo mondo. No, non c'erano più queste rotture di palle totali, ma l'avventura prendeva veramente il sopravvento. Per esempio, nel caso di Randall Thor, che per me continua ad essere il casting meno riuscito, cioè il drago rinato che dovrebbe essere il centro di tutto, bah, a me sto biondino, sto rossiccio, non comincia affatto. Ma vabbè, comunque. Nel caso di Randall Thor avevamo a che vedere con una storia in cui lei, lui, giovane, veniva comunque, diciamo, introdotto ai piaceri della carne da una bellissima, bellissima donna, che, e qui qualche spoiler devo farlo, insomma, qualcosa ve lo devo dire, quindi, però la stagione è finita, al limite voi finite di vederla e poi tornate qui. Questa donna lo introduce, quindi, al vizio, con grande, diciamo, trasporto, e poi, al vizio, all'amore, al sesso, insomma. E poi si rivela essere una creatura sorprendentemente potente, demoniaca. Una reietta. Bello, bello, perché da quel punto, da quel momento in poi, non c'è più tanto da parlare, c'è soltanto da scappare, da fuggire, da darsi da fare. Per quanto riguarda Perrin, che anche qui, diciamo, è l'attore, non è che proprio mi sembri tutta questa rivelazione. Comunque, avevamo la storia, il suo arco narrativo si è separato in maniera interessante, insomma, la sua avventura è diventata quella di un ragazzo in fuga da un impero di schiavisti che poi, insomma, viene adottato da questo mentore, che come lui è in contatto telepatico con i lupi, fa parte di questa, diciamo, questa misteriosa razza meticcia, mezzo uomo, mezzo lupo. E quindi, insomma, anche lì abbiamo poi seguito le sue imprese, che sono state rocambolesche, cioè, piene di eventi, e scappa di là, e viene rapito, e poi viene addestrato in qualche modo, ma anche se è un po' all'acqua di rose. Poi ancora si unisce a una guerriera di una etnia differente, e, insomma, comunque ha la sua sequela e sequenza di eventi che sono talmente serrati da non concedere più, finalmente, tempo e spazio ai discorsi motivazionali del cacchio. E Gwyn, secondo me, figura centrale di questa seconda stagione, esce assolutamente brillante. Questa ragazza che è entrata nella grande torre delle Esedai, torre bianca delle Esedai, per diventare, a sua volta, una grande maga, cioè una Esedai, che nella prima parte, appunto, di questa stagione, insomma, è una figura assolutamente insopportabile, perché non fa altro che parlare di quanto sia invidiosa e di quanta nostalgia provi. Tutto questo è riferito alla figura di Nineve, Nineve. Che è, io lo dico in inglese, perché l'ho vista, ho seguito la serie in inglese, non so in italiano come l'abbiano pronunciato. Mi pare Nineve, comunque, in inglese. Insomma, era insopportabile. E bisognava anche dire che l'attrice, incaricata ad interpretare Eguine, Eguine, bisogna dire, insomma, non poteva proprio dispiegare il suo talento, perché tutto quello che le avevano assegnato di fare era spazzare il pavimento e rompere le palle, con dei discorsi noiosissimi. Ma quando poi viene catturato da questo impero di schiavisti che ha la sua capitale in Falme, beh, allora lì, insomma, ecco che comincia una parte veramente interessante della serie, devo dire, ben scritta, ben realizzata, scandita da tempi opportunamente lenti, graduali. Noi in questa stagione abbiamo visto Eguine crescere molto proprio dal punto di vista della tempra, perché? Perché non era più messa alla prova tramite le pulizie domestiche nella torre bianca delle A.S. ma era ridotta in schiavitù, in una cella, torturata, psicologicamente, fisicamente, ridotta a rango di cane, ok? Infatti è terribile quando la sua schiavista, per congratularsi con lei, la dice good girl, che è quello che si dice alle cagnoline in inglese, no? Good girl, bravo cane, brava cagna, terribile. Il suo arco narrativo è sicuramente quello più avvincente, così come risulta più convincente, a mio modo di vedere, proprio la prova attoriale, in cui finalmente questa giovane attrice dimostra che possiede tutto uno spettro, no? Espressivo. Quindi si passa dalla sconfitta, alla rivalsa, all'odio feroce, alla paura, insomma, tutte emozioni molto forti che, secondo me, ha reso bene, ma poi, soprattutto, tutta questa storia mi ha veramente convinto e coinvolto, mentre tutto quel gruppo di guerrieri che prima era con Perrin, veniva del pari, ridotto in schiavitù a Falme, il Logger, bellissimo personaggio, secondo me, che è questo gigante capace di far crescere gli alberi soltanto cantando, una figura molto stereotipica del fantasy. Troviamo qualcosa di simile anche, che, per esempio, in Thomas Comenant, l'incredulo, ma naturalmente è una figura tolkieniana, lo troviamo, troviamo qualcosa del genere in quasi tutte le grandi saghe classiche, ok? Questo Ogier è un personaggio molto convincente, che poi rilevo che Ogier, il danese, è una figura importante della tradizione proprio folcloristica danese. E c'era, se non sbaglio, era proprio un personaggio che emerge in Tre cuori e tre leoni di Paul Anderson. Come vedete, insomma, i nomi, i rimandi, i riferimenti nel genere e fra i sottogeneri del fantasy poi si echeggiano, perché fondamentalmente gli scrittori sono anche fan a loro volta e quindi omaggiano in un modo o nell'altro i loro rispettivi eroi. Poi, per quanto riguarda l'arco narrativo che, appunto, invece si riferisce a Nineve, beh, insomma, anche lì abbiamo una parte molto, molto forte che è quella in cui lei viene messa alla prova attraverso questi archi, questi antichi manufatti magici in cui, insomma, deve vivere le sue più grandi paure prima di essere introdotta, diciamo, nel primo rango delle A.S.D.I., nel primo rango di carriera delle A.S.D.I. Quella parte è anche molto forte. Bisogna dire che si esce dalla dimensione tardo-adolescenziale della serie, e la dimensione young adult e si entra invece in una fase più adulta, molto più dura, molto più veramente crudele e ho apprezzato parecchio anche quello. Quello che non ho apprezzato particolarmente è invece la lagna, la lagna, beh, molto, molto prolungata che si riferiva alla perdita dei poteri del personaggio interpretato da Rosamund Pike, cioè la A.S.D.I. più potente che adesso non mi ricordo bene come si chiama, e il suo rapporto con Lan, il suo custode, che anche lui era ridotto veramente a un cotechino piagnucolante e non se ne poteva più, non se ne poteva più. Ma poi, insomma, anche lì la situazione viene recuperata, ci sono tanti intrighi, devo dire, tanta azione, lei che cerca, di nuovo, si incarica di salvare Randall Thor, di portarlo alla sua maturità di dragorinato, piagnucolante, però in tal senso non combina proprio niente di efficace, perché cerca di affidarlo a un falso drago che dovrebbe addestrarlo, c'è tutta una parte della seconda sezione che sembra puntare in quella direzione, cioè l'addestramento di Randall Thor da parte del falso drago catturato, rinchiuso in un manicomio, eccetera, ma poi di fatto non succede niente del genere, un sacco di tempo, tempo perso, e senza nessuna giustificazione, cioè questo addestratore, presunto addestratore in realtà è un quacquara qua, o comunque non viene utilizzato a fini narrativi in maniera acconcia. Tutta la parte che riguarda l'impero di Falme, l'impero insomma in cui il reietto Ishamael, quel carismatico, semitico personaggio con la barba squadrata e il naso adunco, ecco, quella parte devo dire che a me è forse la parte che più mi è piaciuta, è per l'ambientazione medio orientale assiro-babilonese e per la crudeltà, la durezza con cui questo mondo è stato raccontato. E questi toni accesi, questi toni veramente molto estremi, schiavitù, torture, una specie di sultanato dedito ai piaceri ma anche al vizio, tutto questo si è riflettuto secondo me in maniera efficace e ben riuscita nei costumi, i costumi veramente sontuosi, finalmente abbiamo visto dei costumi che non non cercavano nessun compromesso visivo, erano tutti multicolori esagerati, scenografici, molto molto d'impatto dal punto di vista visuale e l'ho apprezzato molto, così come anche il trucco, le cicatrici, le scarificazioni che i personaggi esibiscono a modi di segno di distinzione e forse e anche naturalmente di appartenenza di categoria, di rango, tutto molto ben pensato, ecco, si vedeva che dietro c'era un ragionamento, un pensiero e questo l'ho molto molto apprezzato. L'arco narrativo anche di Matt Cotton, l'amico dei tre fiumi che è quello un po' più soggetto alle tentazioni del male e dell'oscurità, anche quello è interessante perché lui è una specie di conto di Montecristo, all'inizio della seconda stagione è rinchiuso da lungo tempo in una cella, poi insomma manipolato, viene portato a Falm e diventa e di nuovo prova la tentazione di commettere, di lasciarsi andare alla via più facile. Interessante, devo dire, tutto questo raccontato bene da un attore molto bravo con un attore molto bravo. Sì, diciamo che si può dire che Nainiv nella seconda parte dopo la sua prova nei tre archi, tre o quattro quanti erano, in cui se la vede veramente brutta, viene insomma introdotta, viene accettata come S.D.I., ma di fatto resta un personaggio poi totalmente inconsistente. Questo sì, questo va detto. fino a tutto questo viene raccontato per arrivare naturalmente al climax dell'ultima puntata che io ho apprezzato, cioè ci sono molto divertito e molto epica battaglie, esplosioni, esplosioni a non finire, casini, torri che crollano, gente che viene ammazzata a fil di spada, tutto molto divertente, con l'unica eccezione che poi alla fine quando finisce tutto questo tu ti chiedi ma ma questi personaggi qui che dovevano cioè quelli dei tre fiumi la cominciata da Randall Thor che dovevano crescere gradualmente, imparare a padroneggiare i loro poteri oppure ne avevano di grandi eccetera ma tutti com'è che poi alla fine tutti sono super eroistici e alla fine proprio invece sono padroni completamente padroni del loro potenziale. Tutto questo succede perché perché sì, perché lo vogliono, perché è volere è potere e di nuovo torniamo in una dimensione di spicciolo di spicciolo spicciola narrazione motivazionale appunto del tipo se vuoi puoi se sei bravo alla fine ce la fai che è un po' appunto certamente ci porta almeno a un epilogo della seconda stagione che è risolutivo però un po' frettoloso ragazzi e di nuovo la nozione è quella i buoni trionfano perché sì perché se vogliono a un certo punto anche se fino a un secondo prima sono degli sfigati persi poi raddrizzano la schiena e vincono perché se sei buono sei buono e quindi vinci se sei americano vinci insomma dai un po' troppo un pochino troppo così come non ho apprezzato assolutamente e notate che questo invece è un messaggio diciamo un sottotesto che passa inosservato quasi sempre in queste produzioni io mi sono rotto le palle di vedere che ogni volta che un protagonista maschile o una protagonista femminile incontra un uomo una donna quel che è ok e si accompagna un altro personaggio subito nasce un una liaison o comunque una chimica ecco una chimica tra i personaggi che così prelude a una possibilità di relazione romantica o anche soltanto di divertimento fra le lenzuola io mi sono rotto le palle di vedere questo con quanta semplicità con quanta facilità ci raccontino che tutti gli incontri tra uomo e donna o tra uomo e uomo tra donna e donna quel che volete tutti siano fatalmente romantici questo elemento romance io veramente usato con questa con questa sciatteria con questa pigrizia la trovo la trovo noiosissima cioè ogni singolo personaggio a parte Gwyn che era chiusa in una cella ha comunque beh anche Nineve perché insomma è lì nel monastero ma tutti gli altri di tutti gli altri dobbiamo obbligatoriamente venire a sapere o del loro passato romantico proprio romantico passionale pure tardo romantico è in realtà sentimentalista ok che è quel filone letterario stucchevole e sdolcinato che è emerso nel 1700 in risposta ai rigori intellettuali dell'illuminismo e poi oppure dobbiamo assistere al fatto che che ne so se Matt Cotton viene liberato riesce a evadere di prigione insieme a una ragazza subito tra di loro nasce qualcosa anche se non si esprime ma comunque è evidente che si amano si amano moltissimo ok così come dobbiamo assistere al fatto che la nostra AS Dai ha un rapporto di profondissimo amore Rosamund Pike ha un amore profondissimo con la sua con la madre superiore ma in passato però ancora si guardano con grande amore 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 in tutti i modi ma lo stesso con Lan loro insomma c'è una relazione profondamente di rispetto ma anche insomma di non consumata passione quando vabbè Randall Thor si si ha insomma per sua fortuna va a letto con questa reietta bellissima secondo me personaggio più attraenti ecco quello è stato un casting riuscito perché è anche brava della serie chi altri insomma sono tutti sono tutti ah sì Perrin libera una questa guerriera indomita che era chiusa in una gabbia di legno o di ferro non mi ricordo e subito dopo neanche cinque minuti lei è lì lo interroga disponibile ad accoppiarsi ma porca di ma siete fottuti questo tipo di narrativa semplicistica ma non mi riferisco ai romanzi mi riferisco alla serie ci ha rotto le palle con questa questo cliché del falli incontrare falli innamorare oppure falli accoppiare subito ragazzi la vita è un po' più complicata ok pochinino gli esseri umani sono leggermente più contraddittori comunque appunto al netto di queste veramente semplificazioni queste grossolane scorciatoie prese dalla narrazione mi sono abbastanza divertito mi sono devo dire che dalla quarta stagione in poi si va increscendo il miglioramento c'è evidente restando il fatto che comunque ogni tanto questi sceneggiatori dovrebbero fumare roba meno pesante o avere meno fretta di arrivare al dunque o essere un po' meno young adult è una serie che ha una serie che ha una quantità di macchie ok sicuramente sicuramente però però devo dire che dalla quarta puntata in poi si è fatta rispettare di più forse nell'ultima hanno un po' esagerato con la retorica e con le scorciatoie però ragazzi questo per adesso offre il convento speriamo che arrivino serie fantasy o film magari anche film insomma fantasy di livello un saluto a tutti da Flavio Trevisi di Broken Stories se vi è piaciuto il video condividete mettete mi piace commentate potete offrirmi un caffè con beh ci sono i link qua sotto se volete fare una piccola donazione eccetera eccetera ciao a tutti da Flavio Trevisi